Salve e bentrovati. Dopo la fiacca seduta di ieri, oggi a Piazza Affari tornano a prevalere gli acquisti. Va detto non si tratta di rialzi eccezionali dal punto di vista della variazione finale, ma altrove le cose sono andate peggio su certi indici. A incentivare gli investitori sono stati anche alcuni dati macroeconomici, come per esempio quello sul PMI manifatturiero dell'Eurozona. Dunque, dicevamo, il Fuzzimib chiude la seduta con un vantaggio, vantaggio che è nello specifico dello 0,39%, nonostante lo vedete una partenza in rosso. Lo vedete dal grafico così come potete vedere che la chiusura è prossima ai massimi di giornata. Un esempio di listino che oggi ha accusato difficoltà è il DAX. Francoforte infatti paga lo scotto del dato emesso dall'Istituto Economico IFO, il quale ha rivisto a ribasso la crescita del paese teutonico nel 2021. Il ribasso dell'indice tedesco ammonta, in questo caso, allo 0,35%. Se Piazza Affari e Francoforte sono contrastate tra loro di pochi decimi di punto percentuale, altrettanto non si può dire per Wall Street. Infatti è più che discreto l'andamento del Dow Jones, mentre è simile ma di segno opposto la variazione del tecnologico Nasdaq. Nota margine il crollo di GameStop, che attualmente è a meno 18. Ricorderete che GameStop è quel titolo che un mese fa circa aveva avuto fortissime oscillazioni causate dal tantam mediatico su internet al fin di danneggiare gli hedge fund. In questo caso, oggi, il crollo è dovuto imputabile ai conti del 2020 della società. Tornando a Piazza Affari, ben comprato il comparto oil in scia al nuovo contratto in Qatar di Eni, che ha annunciato il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso. Il tritico, formato da Tenaris più 3,72, Saipen sopra al più 3 ed Eni a più 2,67, occupa le prime tre posizioni del paniere milanese. Anche Nexi però supera i due punti e mezzo di guadagno, mentre CNH Industrial accelera dal prezzo di apertura, aggiudicandosi più o meno due punti percentuali. Crolla sotto al meno 6 Leonardo, dopo la notizia del rinvio dell'offerta pubblica iniziale di azioni di Leonardo DRS, controllata in diretta della società. Dopo il rally di ieri, frena ampliamente Amplifon, che archivia un soffio dal meno 4 affossato da raccomandazioni di Equitasim. Battuta dal resto per Ferrari a meno 1,71, seguita da Fineco poco sopra al punto e mezzo. Infine Campari con un calo frazionale poco sopra al punto di passivo. Non troppo movimentato quest'oggi il comparto valutario. I cross euro sterlina ed euro yen sono bene o male sui valori di ieri sera e anche il loro andamento grafico non ha dato vita a fortissime oscillazioni. In parte è più marcata la percentuale attuale dell'euro dollaro che nello specifico segna un leggero passivo. Detto ciò, la linea va all'analisi di Gian Vito D'Angelo. Salve a tutti, oggi con me Gian Vito D'Angelo, trader e professionista e con lui come sempre daremo uno sguardo a indici e valute. Non metto altro tempo in mezzo, lascio a te la parola. Ciao Rossana, allora ben ritrovata come tutte le settimane. Allora seguiremo il nostro schema vincente, guarderemo un indice, stavolta guarderemo il DAX, guarderemo un cambio e questa volta guarderemo euro dollaro, per quanto euro dollaro sia ormai una consapevole di più degli indici. Per cui io ti condivido lo schermo e dimmi ovviamente quando riusciamo a vederlo. Ok, restiamo in attesa. Eccolo qui. Eccolo qui. Allora, vedi, questo è il grafico, lo metto in gigante così lo vediamo ancora meglio, vedi questo è il grafico daily appunto del DAX. Vediamo appunto, siamo oramai, ma non è diciamo una novità questa qui sopra i precedenti massimi appunto in area 13,8 e 50 più o meno. Il mercato li ha superati, guarda che impulso, intanto il 2021 ormai come trimestre è decisamente tutto quanto positivo, non solo minimi e massimi di swing crescenti, ma soprattutto appunto nuovi massimi storici e vedi che il mercato da qualche seduta andiamo più da vicino così lo possiamo vedere meglio, vedi che sta provando a scendere perché in effetti vedi i minimi e massimi dei giorni precedenti sono di fatto sempre più bassi, tranne in un caso ma comunque con candela russa, ma qual è la cosa interessante in ottica voluta? Il mercato vedi scende senza vendere minimi, cioè senza accelerando e senza darci l'impressione che sotto precedenti minimi ci sia qualcuno che abbia interpretato quei livelli come idoni per entrare short. Al contrario, l'idea fino a prova contraria è che quei livelli siano serviti per continuare o cominciare per chi magari era flat, continuare a riposizionarsi in qualche modo long, per fare che cosa? Per arrivare nel peggiore dei casi sempre, e questo è lo schema che a livello didattico vogliamo trasmettere, per arrivare sempre perlomeno sul massimo che è originato il ritracciamento e quindi questo ci porterà ad avere comunque per questa settimana ancora una volta una visione long, l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione se vogliamo allargare un pochino l'orizzonte temporale è quello di pensare che l'ultimo anno in cui questa cosa è avvenuta, cioè che il primo trimestre è stato estremamente positivo, è stato il 2015 e quell'anno soprattutto gli indici europei fecero massimi a fine marzo e inizio aprile e poi in qualche modo scesero i trimestri seguenti del 2015. Quindi facciamo molta attenzione, la view rimane long, ma al momento su un orizzonte temporale leggermente più stretto, ma sicuramente aprile posizioni short è sbagliato. Il secondo mercato è Euro-Dollaro, molto velocemente lo mettiamo sempre a massimi livelli e adesso così abbiamo una visione totale, vedi anche qui come il mercato ha tenuto questa famosa area intorno a 1,2250-1,23 e anche da qua vedi che il mercato ha a cominciare ad anellare proprio con l'inizio del 2021, minimi e massimi di swing al contrario del DAX decrescenti. La view rimane in qualche modo ancora ribassista, vedi che il mercato adesso è andato, avviciniamoci un pochettino, sotto precedenti minimi di swing, l'idea è che possa generare nuovamente massimi di swing più bassi e proseguire in questo trend short. L'unica cosa, l'unica accortezza, non entriamo, benché la direzione short sia su Euro-Dollaro quella giusta, non entriamo ovviamente short sul breakout di precedenti minimi perché questo, come sappiamo, statisticamente non fa bene al nostro conto trading. Per cui per questa volta è tutto e ti restituisco la parola. Perfetto Gianvito, ti ringrazio degli spunti operativi e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao, alla prossima Rossana. Con quest'ultima nota di Gianvito D'Angelo si chiude l'appuntamento di oggi. Come sempre, grazie per la visione e un arrivederci a domani.